Due giorni di un meeting internazionale molto importante, organizzato con quale finalità? Le finalità sono quelle di studiare metodologie di conservazione di semi delle piante, soprattutto quelle che vivono al di sopra del livello dei boschi. Le robbie bergamasche ne sono un bacino molto importante e quindi si è pensato, assieme ai tecnici del parco, di ospitare queste due giorni di questo meeting internazionale per parlare di queste tematiche, per proporre soluzioni alternative o comunque sistemi di conservazione di questi semi. Il parco delle robbie non è la prima volta che si occupa di questa conservazione, tanto da essere già entrato in contatto con queste banche di conservazione di semi di piante, ad esempio conservando il mais arrostrato rosso di rovetta e il mais della Val Gandino. In particolar modo le robbie sono esposte a un riscaldamento globale che potrebbe portare all'estinzione di quasi il 60% delle specie e a questo proposito, in collaborazione con l'Università di Pavia, sono state avviate due tipologie di progetto. Uno proprio per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla flora tramite il progetto Gloria, che è un network a livello mondiale. L'altro appunto è proprio per conservare la flora ex situ, cioè nelle banche al germoplasma. Quindi tramite la raccolta di semi di piante rare, noi poi andiamo a disidratare questi semi e conservarli in due strutture principalmente. Una che è la banca dei semi della Lombardia, che ha sede proprio a Pavia, presso l'Università, e una a Londra, che è la Millennium Seat Bank dei Q Gardens, che tra l'altro stanno partecipando al meeting che si tiene in questi giorni proprio alla sede del parco, che è la banca del germoplasma dei semi selvatici più grande al mondo.